E come tutti noi sappiamo anche dai film che vediamo in televisione, la filosofia americana è quella di produrre autovetture o pick-up molto grandi e molto voluminose. Ma adesso devono anche essere ecologiche, come questa GMC Sierra Hybrid che vediamo nel servizio. Se siete appassionati delle pick-up del tipo americano, ovvero quelle ingombranti, di peso adatto a gareggiare nel pugilato nella stessa categoria di Mike Tyson e dotate di motore di diversi litri, ma se allo stesso tempo siete interessati ai veicoli ecologici e alla problematica della diminuzione delle emissioni inquinanti, il servizio che vi presentiamo è proprio quello che fa per voi. La GMC Sierra Hybrid Model Year 2009 è stata presentata nel suo habitat naturale, ovvero il Salone di Chicago, e dalle caratteristiche tecniche possiamo subito dire che è molto simile alla sorella Chevrolet Silverado, entrambe figlie di Cassa General Motors. Questa mastodontica pick-up è stata equipaggiata con un motore Vortec V8 da 6 litri di cilindrata, in grado di erogare 332 cavalli, propulsore dotato del sistema di disattivazione della metà dei cilindri quando essi non siano necessari, riducendo in questo modo la potenza e il consumo di carburante. Questo motore V8 è stato abbinato ad un sistema ibrido composto da un motore elettrico e dal pacco batterie al nickel metal idruri da 300 volt alloggiate sotto i sedili della seconda fila, configurazione che permette alla pick-up di funzionare sia in modo combinato che in modo solo elettrico. Di fatto, il sistema di funzionamento di questa GMC Sierra Hybrid è lo stesso che equipaggia la GMC Yukon Hybrid e la Chevrolet Silverado Hybrid che sono già disponibili nel listino degli Stati Uniti. Secondo la casa costruttrice, in questo modo si ottiene una diminuzione del consumo che oscilla dal 25% fino al 40% se viene considerato il consumo in ambito urbano mentre si viaggia in modo elettrico. Tra le caratteristiche tecniche, spicca la capacità di traino tra le 5.900 e i 6.100 libri che in numeri tondi sono da circa 2.700 a 2.760 kg. La capacità del serbatoio di 98 litri che permette un'autonomia di circa 800 km, mentre negli interni sono presenti tutti i comfort. La pick-up GMC Sierra Hybrid sarà disponibile nel mercato americano nell'ultimo trimestre del 2008 in versioni crew cab da due o da quattro ruote motrici dotate di controllo elettronico della stabilità Stability Truck e dalle più popolari dotazioni di sicurezza come il doppio airbag frontale e quello laterale. Gli appassionati di pick-up americane e di problematiche ambientali sono stati accontentati ma se pensate di acquistarne una di queste pick-up e poi pretendere di trovare posto per parcheggiare nelle città europee allora noi non possiamo assolutamente garantire l'esito dell'operazione. Grazie a tutti.